Se mi ricordo bene, voi parlate di risposta zero a zero, no? Così noi diciamo la risposta normale, uno che non risponde. Invece non è una risposta zero a zero, però è la verità. Quando vedi una squadra e vedi i giocatori, ok, hai la tua idea della squadra e dei giocatori, però non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Quindi lasciatemi allenare Raspadori perché lei parla di Raspadori e poi potrò rispondere a questa domanda. Io ho delle idee, però vanno verificati queste idee prima. Paolo D'Engelio, Telecapro. Salve mister, prima ha parlato di concetti di calcio molto moderni per definirli, la riconquista immediata, la pressione alta, il tanto campo alle spalle. Ci concetti ovviamente sono tutti nella fase di non possesso. Nel possesso qual è la sua visione?